Non posso perdermi di essere in questo film che ti fanno a te sulla tua vita come il gran goleador, il gran piccici che ha avuto, il capocannoniere più grande che ha avuto il calcio nel mondo. A te non se ti poteva marcare, perché la settimana marciamo tutti a Paolo Rossi, marciamo a Paolo Rossi, marciamo a Paolo Rossi, gol di Paolo Rossi. Per quello, spero di vederti, dare un abbraccio e di grazie per tutto quello che hai dato al calcio. Grazie.